A Trascorre un ottimo incontro, abbiamo incontrato i referenti di Promo Serio e di Inval Cavallina che sul terreno della promozione turistica hanno avviato una partnership in questi mesi. La provincia per quello che ha potuto ha finanziato questa realtà attraverso il bando sui progetti di sviluppo e l'incontro di oggi è per fare un passo in più, per ragionare innanzitutto per rendere merito e valorizzare queste realtà e poi per ragionare di come questi esempi possono essere assunti a modello provinciale in un momento come questo in cui stiamo ragionando sul rinnovo di turismo Bergamo, della governance del turismo provinciale e tutto quello che è nato in termini di aggregazione sul territorio va valorizzato fino in fondo e bisogna dargli massima importanza e massima visibilità. Questo è l'impegno della provincia che abbiamo confermato oggi e su questa strada continueremo a operare.